E' una barba da esistenzialista, come puoi trovarla a Saint-Germain-des-Prés? E i capelli da naturalista e due lunghi baffi molto demodè. Ma ho trovato una ragazza sul metro e una grave decisione prenderò. E i capelli da naturalista e due lunghi baffi molto demodè. Mi taglierò, poi con un fiore rosso all'occhiello ad aspettarla andrò. Certo più facilmente senza quei baffi a punta in su. Le potrò dire timidamente diamoci ormai del tutto. Mi guarderà sorpresa un po' sul chi va là. Forse sarà sdegnosa oppur chissà sorriderà. Barba, capelli e baffi per farmi bello mi taglierò. Poi con un fiore rosso all'occhiello ad aspettarla andrò. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.